Ricordate, un giorno senza sorriso è un giorno perso, Charlie Chaplin. Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 6 dicembre. Il titolo è chiaro, non finisco mai di ringraziare questi ragazzi di Stefano Pioli. Il Milan dopo anni complicati adesso ci sta ripagando perché è sempre al vertice del campionato, lotta con le squadre, è sempre a settembre e già fra le prime quattro. Non ci sono più dubbi che lotterà fino alla fine, vista la sua continuità per il vertice della classifica. In campo internazionale, nonostante un girone tremendo, il girone più difficile, complicato, affascinante, spettacolare, è ancora lì. Serviva l'impresa a Madrid e il Milan c'è riuscito. Serviva non perdere con il porto, almeno non perdere con il porto a San Siro e conquistare il primo punto e il Milan c'è riuscito. Sono ragazzi infiniti questi di Stefano Pioli e non finisco mai proprio di ringraziarli perché ci hanno ridato quell'entusiasmo, quella voglia di Milan, quel sorriso, quell'entusiasmo ripeto, entusiasmo è la parola, il sostantivo che vorrei usare sempre, che non conoscevamo, che avevamo dimenticato. e quindi ritrovare queste sensazioni, ritrovare questi sentimenti ci fa star bene. E domani un'altra sfida, 7 dicembre, la fiera degli Obey Obey, l'inaugurazione della scala con il Macbeth di Giuseppe Verdi e la partita di Champions League Milan-Liverpool. Il Milan contro una, secondo me, con la squadra più in forma e più forte d'Europa oggi insieme al Manchester City e aggiungo il Chelsea che ha perso con il West Ham dopo però di settimane straordinarie. Il Milan gioca per entrare in Europa o meglio per rimanere in Europa, per entrare nell'Europa degli ottavi di finale contro la squadra più forte d'Europa insieme al City e al Chelsea. Quindi serve ancora ripetere l'impresa. Magari non riusciremo. Milan non riuscirà perché non combaceranno i risultati di Porto Atletico. Un atletico che ha perso contro il Malaga 1 a 2 nell'ultima partita di campionato. Speriamo abbia il pensiero rivolto verso il match contro il Porto. Anche là sarà un match rovente, caldissimo, decisimo come quello di San Siro. Domani farà freddo, farà freddo ma sulle tribune farà molto caldo in campo. È prevista neve dopo domani quindi domani sera ci sarà aria di neve, aria di 7 dicembre. Aria che non ferma i tifosi del Milan che domani riempiranno San Siro. Quella atmosfera. Aspetto già la musichetta e il grido dei tifosi del Milan. Una serata che si annuncia straordinaria. Anche perché l'aspettavamo da troppo tempo. Oggi l'allenamento e le parole di Stefano Pioli. Chi giocherà contro il Liverpool? Non mi sembra che ci siano tante sorprese. Lascio oggi, prima dell'allenamento, qualche dubbio. Importa Mignan. Quello che adesso io definisco il trapezista. Un portiere che è bravo non solo con le mani ma con i piedi con quei lance. Non ci sono dubbi per gli altri tre in difesa. Cioè parlo di Tomori. Vedremo chi sarà il suo avversario. Parlo di Romagnoli, il capitano. E parlo di Teo Hernandez. A destra, secondo me, Calulu è ancora un po' più favorito di Florenzi. Le cui chance stanno salendo dopo la brillante partita contro la Salernitana. A centrocampo Tonali Chessy. La forza di Chessy è il senso dell'orchestra. Il senso del metronomo di Bagliore di Fiamma. E parlo di Tonali. La davanti io credo che non si andrà lontano con Selemeker dalla formazione giusta. Cioè non si andrà lontano nell'indovinare la formazione con Selemeker, con Diaz, con Leao. Vediamo l'allenamento di oggi si è recuperato dall'indurimento e con davanti Ibra. Dovrebbero essere loro e credo proprio di non sbagliare. Potrebbe esserci una doppia alternativa mettendo Messias e Krunic. Perché io dico sempre che Selemeker e Krunic giocano, uno dei due gioca sempre. Penso che Selemeker sta bene, ha giocato una grande partita, corre fresco, non mi sembra stanco. Poi ci sono pronti a entrare giocatori duttili e giocatori importanti. Quindi dovrebbe essere questa la formazione che affronterà il Liverpool. Con la davanti Zlatan Ibrahimović. Che abbiamo visto ieri sera. È una domanda pertinente. Qualcuno potrebbe dire ma no, ma il Milan deve pensare a se stesso. Deve pensare alla sua formazione. Non deve pensare a che Liverpool arriverà. Eh no, eh no. Perché come quando diciamo che Piolicon mettendo in campo dei giocatori dà delle linee, dà dei segnali, a volte che dà chiari per capire come debba essere affrontata una partita. La stessa cosa farà Klopp. Che Liverpool sarà. Beh, allora, incominciamo col dire, per chi non segua in maniera importante il campionato inglese, che il Liverpool da terzo è passato secondo. Perché il Chelsea ha perso col West Ham, il Manchester City ha vinto e il Liverpool ha vinto. proprio all'ultimo minuto contro il Wolverhampton. E dunque in piena lotte in un triellio fantastico. Tre squadre in tre punti. Quindi la domanda, attenzione, affronterà domenica prossima la Stonvilla di Gerrard. Allenato da un simbolo, da un eroe della storia del Liverpool. Gerrard. Quindi io ritengo, vediamo, che pescherà fra i giocatori che giocano meno. Come Orighi, che è stato decisivo contro il Wolverhampton. Non sono giocatori scarsi. Ma un conto è avere Manet e Salah. Un conto è avere Minamino e Orighi. Grandi giocatori, spessore inglese, quello che volete. Ma è differente. Anche in difesa vedremo chi metterà. Non so, ci sono delle assenze. Nel Liverpool è squalificato Milner. Ma indubbiamente anche per i giocatori del Liverpool. I giocatori del Liverpool saranno sintonizzati, mentalizzati al match contro la Stonvilla. che sta andando molto bene, sta crescendo molto. Quindi speriamo di sfruttare un Liverpool certamente non con la formazione migliore. Ricordavo, appunto, che con Ancelotti il Milan ha perso tante volte la ultima o la penultima partita proprio. Perché era già qualificato primo. Non è fondamentale. Il Milan deve pensare che il Liverpool verrà qui per fare la grandissima partita. Ma cosa direbbe Monsieur de la Palisse? Se il Milan affrontasse un Liverpool non con la formazione titolare sarebbe meglio per il Milan. Lo dico io, lo dice Monsieur de la Palisse. È inutile dire no, ma noi dobbiamo pensare. Ecco, speriamo che il Liverpool sia distratto dal campionato. Speriamo che Klopp mandi un segnale mettendo in campo non i titolari. E poi però il Milan le deve approfittare. Perché poi è sempre il Milan che deve affrontare il Liverpool e deve riuscire a batterlo sempre in attesa di quello che succede lontano là in Portogallo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.